Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo vlogmas Oggi è 22 ragazzi Siamo quasi giunti al termine, mancano 3 vlog Ma ho letto alcuni commenti che dicono Oh mio Dio, dopo i vlogmas Scusate che sto morendo di caldo Cosa farò? Ragazzi, la vita va avanti, ci saranno tanti nuovi video Nuovo anno, nuovo format Tra piccolette Comunque, allora, perché sono così? Perché sono appena uscita da palestra Stamattina mi sono svegliata E sono venuta a fare la mia lezione preferita Con il mio insegnante preferito Che purtroppo c'è solo di sabato Quindi sì, se mai vedrai questo video Ti amo, sappilo Quindi ogni sofferenza per te è più che ben Sudata, più che altro Adesso volevo mettere con voi Il regalino che mi ha fatto l'altro giorno Julitz Che è questo profumatore per la macchina di Yankee Vedete, è fatto così Qua ci va il profumino che ho in mano E poi mi ha regalato anche un ciondolo con scritto love Tipo un Pandora per la macchina Una figata Io ho questo profumino Che penso che ormai sia svanito Quindi lo tolvo Quindi vado ad attaccare questo L'unica cosa è che serve di svitare Prelevare il pezzetto magico Dove va il profumo Cercare di aprirlo Dico cercare perché io non ce li esco mai Uh, fatto E poi ci dobbiamo mettere questo Niente, è stato un fail totale Non si è chiuso Vedete, è rimasto così E non riesco neanche ad aprirlo Ah, ecco, almeno l'ho aperto Vabbè, a casa lo sistemerò Magari gli gratto un po' il sopra Almeno si chiude Quindi julitz, niente Non è successo nulla Adesso c'è il mio angioletto del make-up Che è pazzesco Lo so che lo vorreste tutte Mia madre non so dove l'ha comprato Aveva anche il bacio qua Ma si è perso Perché vedete è attaccato tipo Quella con la calda Però questo rimane È più carino E poi questo profumino Troppo, troppo cute Però mi sa che l'ho messo pure al contrario Cioè l'ho ben scritto al contrario Vabbè Lasciamolo così che è già stata l'impresa Adesso Dopo 800 calorie Che io ho sudato Perché è stata Una delle lezioni più pesanti L'ha fatta apposta Perché sa che tra un po' Se mangia Io Insomma Posso sempre mangiare relativamente Però Adesso me ne torno a casa Vediamo cosa fare Se iniziare a preparare qualcosa Perché devo fare un sacco di Preparazioni proprio a livello culinario Ho fatto un cambio di rotta E mi sono fatta la riga da una parte Fatemi sapere Di solito vi piace Però con i capelli lisci Non lo so Vabbè Comunque stiamo andando alla metro Che è un posto Come si può dire Tipo all'ingrosso Grande magazzino Grande magazzino Mende tutte cose Tipo Pacchi giganti di noccioline Per i bar Confezioni Di vino Da venti bottiglie Pensa Però poi ci siamo mai andati Quindi prima volta Vi porto con me E io ci vado Perché voglio vedere Se c'è una confezione gigante Di patatine Cioè Sono proprio curiosa Secondo me ci sta E anche di Anacardi Oddio Se trovo una bozza di Anacardi Siamo entrate Praticamente c'è Tutto Un sacco di roba Qui stiamo Al reparto Batti Per Manuela Compriamo Vai vai Fagliela dare No Eccola Oddio E' anche abbinato Al vestito Beh direi che tra qualche anno Potresti essere così Adesso pensiamo alle cose serie Vino Pandoro Panettone E' gasata per le sue figlie E' trovata due amiche E qui ci siamo fatte Questa quanto viene Due pelotas Cioè questo per capodanno ragazzi E' una sorta Quando la cosa ti sfugge leggermente di mano Ma guardate Questo stava a 2 euro Cioè è un bottiglione No 1,50 Ah 1,50 Pazzesco Questo è quello che uso io Nell'insalata La confezione piccola La pago tipo 3 euro e qualcosa Qua 2,90 questo mega boccione Poi un po' di roba Queste per la mia amichetta La mega marmellata Poi ho preso le patate dolci finalmente Me le rifaccio che sono buonissime E basta L'unico problema è che siamo qua dentro Da tipo 2 ore Cioè ho le gambe a pezzi Dopo controllo quanti passi ho fatto Sull'applicazione E qui siamo nel reparto Surgelati Che è immenso E dopo quasi 400 euro di spesa I nostri Perché sto continuando a girare Non mi viene il termine I nostri compratori Hanno finito Hanno comprato Hanno speso E adesso con la macchina Di mia madre Che è un mezzo pericolo pubblico Se la incontrate Mi raccomando Spostatevi Caricheremo tutta questa roba Per pranzo ceci Con olio e aceto Peperoni E altre dolce Visto che sono le 4 Inito di mangiare Sono tipo le 5 Probabilmente Oggi È una giornata un po' così Poi praticamente In questi Due giorni In cui ho stoppato i vlogmas Compreso oggi Perché sarà già uscito Il video tutorial Io vi devo avvisare Su Instagram E tra l'altro Selezionare Il vincitore del giveaway Con cui dicevo In questi due giorni di stop Mi sono messa Esco al musical E devo dire che mi mancava Troy, Gabriella E tutti quanti Che poi non so voi Ma il mio preferito È sempre stato Il mio nome è Chad Io sono innamorata di lui Dell'attore Comunque a parte di questo Appunto adesso faccio Questa cosa di Instagram E poi seleziono Un nuovo premio Per il giveaway Di oggi Io e Wendy Stiamo facendo Un po' di coccoline Wendy con la testa Sul mio giacchettino Madonna Queste coscette di pollo Sono come delle coscette di pollo Poi come sempre Ero qui a guardare I vlogmas di Guglielmo Che oggi non ho avuto Ancora tempo di vederlo E stavo appunto Estrendo il vincitore Che poi anche oggi È una femmina E alcuni mi hanno chiesto Come strago le vincitrici È molto semplice A caso Salvo tutti i direct Quindi li accetto Tutti quanti Poi scorro su Giù col dito Gli occhi chiusi Il primo che tocco È quello Quindi è proprio Una fortuna In tutti i sensi Adesso Preparo il post Per il nuovo giveaway Mi raccomando Se volete partecipare Anche voi Perché ci sono un sacco Di premi E ancora non mi seguite Su Instagram Andate subito Vi faccio apparire adesso Il nome da qualche parte Perché i giveaway Ci saranno ancora Fino al 25 Detto ciò Adesso peschiamo Un'altra bustina Dal sacchetto magico Delle meraviglia E poi mi scrivo Per tipo un'ora Perciò Questo vlogmas Quindi andate a dare un occhio Altrimenti Altrimenti Che facciamo una cena Prenderlo E zoomandoci La terza Questa è Questa è Questa è propria confezione Non l'ho ancora aperta Però vi posso dire Che con l'altra Di Petri Star Io mi ero trovata Benissimo Vediamo la consistenza Ma mi sembra Molto simile Sì esatto All'altra Soltanto diverso il colore Questa magari fa Un po' più di coprenza L'odore non c'è Non penso Faccia flashback So che dovrebbe essere Uscita già in negozio Quindi andateci A dare un occhio Hai fatto la tua famosa Lasagna al pesto Quanto sono? Perché? Vero da bassa Oh si è affannato tutto Perché ho fatto Più piccolo C'è la parte Due Male 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 Ma io lo vedete Con la memoria A breve termine Sono scesa Oltre che per Prendere le buste Per prendere I tappetini di Guenda E la carta igienica Svrattuto Andiamo 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 Tappetini presi Carta igienica presa Mi stanno dicendo Alla regia Che devo prendere Anche i panni Sul tavolo Questa di oggi È proprio Una classica giornata Da nulla facente Tra virgolette Perché poi le mie cose Le ho fatte Io Da che Ho un memoria Ho sempre avuto Le gambe Molto muscolose C'è anche prima Che comunque Magari più sopra C'era un po' più di città E adesso che sto facendo Più palestra Non è tantissimo Che vado regolarmente Ma sarà almeno Un mese e mezzo Ho questo muscolo Alla gamba Che infatti a volte È a lezione Quando fanno Le gambe Soprattutto la parte Qua sopra E io sto ferma E l'insegnante mi fa Perché ti sei fermata? Perché non voglio Che mi cresce il muscolo Della gamba E alcuni E alcuni si mettono a ridere Alcuni mi prendono Per pazzi Quindi va bene così Però appunto Non so come farvi vedere Sì a parte che So con le ciampatte Cioè vedete Questo è muscolo E mi dà un fastidio Che c'è questa zona Così Cioè non so se notate Vedete che gambe muscolose Che ho Adesso sto super irrigidendo Dovrei essere un pochino più Avete presente Temmi Quella su Instagram Ecco lei Ha una vitina Stretta così Ha una pancia piatta Ha avuto due figli Cioè una pancia che Non lo so Non esiste C'è un sedere Che è così Non so neanche perché Sto facendo questa mostra Su Youtube E adesso ve la voglio far vedere A parte il mio giacchetto Peloso Che mia madre l'ha lavato E lo devo mettere a posto Cioè se non conoscete lei Non sapete proprio nulla Della vita Guardate che Gnocca da Panico Cioè ragazzi Due figli Sottolineo due figli Cioè È pazzesca È pazzesca Guardate che buri Vabbè che si spaccherà Di palestra La mattina o la sera Non farà nient'altro Però Ci metterà la firma Con questi due bimbi Super chiutti Sembra che anche lei Abbia una vita perfetta Anche se non credo Però Ci piace sognare Ecco come si diverte un cane Vai con due dita Attacca 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 Terremoto 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 Dove va? Dove va? No 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 Ecco Meno male che l'ho ripresa Perché poi non ci crede la gente Cioè Vi rendete conto Cioè vi sembra normale Guardate Poi si mette a grattare Cioè uno fa il letto carino Poi tu Così da lui Scusi Che fa? Perché grazie Signor cane Non entri sotto i cuscini No vabbè Hercules Guarda Cioè Ma mi rendete conto Io avevo un letto un po' ben fatto Guarda Arriva a fine il fondo Dove vai? Dove? Niente Cioè Ma che ti sei fatta? E ritorna a Game of Thrones E la barriera È finito? Ah Adesso dopo che hai fatto sto casino Cioè Nel giro di un minuto Ho fatto il misfatto Sto bene a posto così Sei matita alla prestiti Rieccoci nella famosa casa con l'albero Stavolta ci sta l'albero Qui c'è Giorda Qui c'è la gente Riprendiamola così Io che gioco a Harry Potter No perché Lo sai quante? A quando le dico faccio la besciare Stiamo ancora finendo di mangiare Io ho mangiato le mozzarella di bufala Poi ho mangiato la lasagna Un pezzettino eh Perché poi bisogna rimanere fitto E adesso ragazzi ci passiamo con il pandoro Il turrone Questo è il mio primo pandoro dell'anno Quindi sono molto emozionata Riprenderò la scena perché deve essere impressa nella vostra e nella mia mente Quindi questa cena prenatale sta diventando un po' pazzesca E momento torrone Ragazzi sto stagliando Adesso con un coppino buono Questa sarà la mia attenzione E a chi piace il tuo pandoro? A me piace questo qua Ma cosa sto stagliando? Oh sono tipo le grevelli Da mo Dai taglia Dai ragazzi Non stagliando Non stagliando C'è tipo il vaso Buon appetito Eccoci tornati a casa Anche questa cena è andata Tra l'altro stavo vedendo gli orari della palestra Perché mi sentivo troppo in colpa E volevo andarci anche domani Solo che la lezione con il mio preferito Che era quello che c'era anche oggi Purtroppo è tutta piena Cioè c'è addirittura l'alissa d'attesa Ho detto anche no Ops Poi devo cucinare per il 24 Quindi guarda un po' Non si può andare Poi ci sarei andata volentieri E parte tutto Credo sia quasi l'una più o meno Io adesso volevo mettermi a editare questo vlogmas Quindi domani lo caricherò in tempo Infatti sto accedendo il pc Quindi mi metto all'editing E noi ci vediamo con il vlogmas di domani Mi raccomando sempre le 4 presenti Ciao